Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico anche questa puntatona dal colore scrittura creativo la progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza Isaac Asimov, Words of If 1958 La sensazione di potere, The Feeling of Power Fabula, racconto probabilmente ironico che ironizza sui geni dei calcoli a mente quanto sui politici e militari ritenuti da Asimov non troppo intelligenti il racconto non ha nessuna fabola se non quella di girare a vuoto intorno alle capacità di far di conto a mente oppure a mano rispetto ai vantaggi di usare un computer o una calcolatrice tascale Asimov ironizza sulla capacità di far di conto immaginando che questa possa essere spinta all'infinito in un essere umano avendo come effetto improvviso la morte ho dovuto editarlo in varie parti perché la divagazioni e descrizioni introdotte non facevano procedere la storia anche perché non c'è nessuna favola nel racconto se ne sconsiglia la lettura non essendo un case of study utile per approfondire qualche strumento di scrittura creativa narratore, esterno, non onnisciente, invisibile, focalizzabile sui personaggi in forma, un racconto un po' insulso, un po' orrendo, corto, privo di una storia non è fantascienza, non c'è nessun elemento tecnologico e nessun elemento di merito da segnalare per questa puntata è tutto, un saluto ciao, alla prossima